Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, questa è una nuova puntata di FIFA Ultimate Team Questa è la 300 millesima squadra che mi faccio e quindi adesso andiamo a cercare l'avversario Ok, il nostro primo avversario ha una serie A, sembra tranquilla, ma ovviamente quando dico tranquilla Giustamente prendo tre pere nel... Bruno Perez, Bruno Perez per Caglion, Caglion, che cazzo fai Manne, Manne, Miranda Miranda per Nainggolan, Nainggolan la passa Bruno Perez, Bruno Perez, Bruno Perez ancora, Bruno Perez, Bruno Perez la passa a Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan La butta in mezzo per la testa di Guaina Subito, 1-0, conza di Guaina, mamma mia che cazzo ha un cannone in testa sto Cristiano I ciuoli nei bumbi Caglion, Caglion corta per Salah, 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 Salah butta un kebab, non gli riesce il Sharawi Il Sharawi Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan ancora, la passa dietro a Miranda Non lo so, Miranda, Miranda, Miranda tenti il tiro Minchia E Sharawi si allunga la palla E Sharawi, E Sharawi, E Sharawi la butta in mezzo Calcio d'angolo Cazzo, cazzo 2 balle 1-1 Barzagli, Barzagli, ultima azione del primo tempo Caglion, Caglion, Caglion ancora, Caglion, Caglion, la passa di Bala, di Bala, di Bala, di Bala Paolo, di Bala 2-1 al 45esimo, anzi al recupero del 45esimo Grandissimo, 2-1 Ok, Aleksandro, Barzagli, Barzagli, per Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan Che cazzo fai Nainggolan, ma perché, perché sei uno scemo Andanovic, ok Andanovic Non ti treppare la vita Ma che cazzo fai Andanovic, perché, perché Perché porti Andanovic per Sharawi E Sharawi caglion, caglion, caglion ancora, caglion, caglion la passa Iguain Iguain, Iguain ancora, Iguain Vai Iguain, ma che cazzo fai Iguain, mamma mia, Iguain come tiene palla Iguain, Iguain ancora, Iguain, Iguain Entri in aree, Iguain, Iguain, Iguain Cazzo, traversa Iguain, che cazzo Ma vaffanculo, io le traversi, i pali e tutto Ok, caglion, caglion, vai, 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 vai Che due palle, però, prendete sta cazzo di palla Ok, meno male No, c'è riuscito a prendere Ma perché si stanno stuprando i miei giocatori Ma che problemi hanno Ma fatene fuori dal campo queste cose schifose Vaffanculo, tu, il tuo bella merda Tu, tutti i giocatori che hai Squadri, Iguain che fai il violino Che l'imitazione scema di Gilardino E andate a fanno quell'ultimo atti Barzai, Barzai per Caglion Caglion Di Bala Di Bala Minchia Oh Piano E in chia, se non è rosso questo Bra Che cazzo E direi Però niente Gli ha staccato la famiglia Sì, è una cosa stranissima da dire Però, va bene Caglion, Caglion, Caglion Ancora Caglion Alla ricerca di Di Bala Di Bala Di Bala Paolo Di Bala 3 a 2 All'ottantacinquesimo Che cazzo però Stiamo giocando molto meglio Quindi ce lo meritiamo Tutto questo vantaggio È finita 3 a 2 Che partita soffertissima Praticamente Ho fatto 11 tiri Di cui 57 in porta E questo qua invece Ci ha rotto le palle Con tre tiri del cazzo Andiamo subito al secondo avversario Speriamo che vada Giapponese Il nostro secondo avversario C'ha Una premiere Sì, praticamente sì È tutta la premiere Con Tevez Che mi preoccupa Non poco Barzagli 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 Ma che cazzo La nengolanda per il Sharawi Il Sharawi Il Sharawi Se ne va Il Sharawi Il Sharawi Se allunga palla Il Sharawi Rientra Il Sharawi Grandissimo Il Sharawi Il Sharawi Il tira Giro Stefano Il Sharawi Mamma mia Il gol Il gol Il Sharawi 1 a 0 All'undicesimo Che bel gol Andà Il Sharawi Ti levolo Il Sharawi Ma perché non recuperi Ma come posso fare a fare questi diri Questi Io non me lo spiedo Miranda Miranda Contro Sanchez Minghi Miranda 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 Contro Sanchez Vai Fermate Sanchez Dai Quanto ci vuole affermare Sanchez Però Andanovic Andanovic La butta sotto Alla ricerca di Guain Guain per Di Bala Di Bala Ancora se ne va Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Si ferma Mamma mia Di Bala Stanno cercando di ucciderlo In qualsiasi modo possibile Immaginabile Di Bala Di Bala ancora Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Che cazzo fai Di Bala Di Bala Di Bala Mamma mia Paolo Di Bala Che cosa ho fatto Paolo Di Bala Che fenomeno Che fenomeno Di Bala Di Bala Si è smarcato Pure i giocatori Quelli in panchina La gente a casa Che sta guardando la partita Io che sono seduto Pure a me mi ha triplato Praticamente Iguain Iguain cerca Di Bala Di Bala Cerca Caillon Caillon ritrova nuovamente Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala Quindi nuovamente Palla per lui Paolo Di Bala Grande protagonista Di questa partita Di Bala Di Bala Entra Quello che voleva staccare La maglietta Dice Perché no Cattutti L'ordo che non si ha Nengolando Nengolando Per Caglion Caglion la passa Iguain 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 Se ne va Iguain Novantesimo Iguain Iguain 4 a 1 Con solo Iguain Che partita Che partita Mamma mia E finisce la partita 4 a 1 Mamma mia Che partita dominata Che partite Tutte e due Troppo belle Bene ragazzi Questo video finisce qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se avete qualche giocatore Di FIFA Ultimate Team Suggerito nei commenti Oppure se volete Qualche altra squadra Qualcosa più di particolare Appunto Avete i commenti A disposizione Un saluto da Simone Dei 4 Joyboard Ciao a tutti